Italia bella mostra di gentile e figli tuoi non li abbandonare se non ne vanno tutti in Brasile non si ricordano più di ritornare ancora qua ci sarebbe da lavorare senza stare in America emigrare il secolo presente qui ci lascia in 1900 si avvicina la fame c'ha un dipinto sulla faccia e per guarirla uncella medicina ogni po' noi si sente dire vo' laddove è la raccolta del caffè ogni po' noi si sente dire vo' laddove è la raccolta del caffè l'operaio non lavora c'è la fame lo dipora e qui braccianti non sanno come si pare andare avanti sperere il 1900 finirà questo dormito ma questo è guaio il peggio tocca sempre all'operaio ogni po' noi si sente dire vo' laddove è la raccolta del caffè ogni po' noi si sente dire vo' laddove è la raccolta del caffè non ci rimane qui che previ e frati monicche di convento e cappuccini e certi commercianti disperati i tasse non conoscano confini verrà un dì che anche loro dovranno partì laddove è la raccolta del caffè verrà un dì che anche loro dovranno partì laddove è la raccolta del caffè ragazze che cercavano marito vedan partire il loro fidanzato vedan partire il loro fidanzato e loro restano qui coessor curato verrà un dì che anche loro dovranno partì laddove è la raccolta del caffè verrà un dì che anche loro dovranno partì laddove è la raccolta del caffè verrà un dì che anche loro dovranno partì vedan partire e lì che anche loro dovranno partì laddove è la raccolta del caffè biazza